Consueto appuntamento di fine stagione sportiva per i tifosi della Triestina che come negli ultimi anni sfida nel caldo di giugno per ritrovarsi a domio tra tornei di calcio, momenti di relax, cibo, bevande e la festa che in particolare dal tardo pomeriggio e per tutta la sera unisce gli appassionati dell'Unione e i numerosi ospiti tra Vecchi e Gloria e gli altri protagonisti rosso labbardati. Tutto questo è grido libero. Quest'anno è stata già dai primi ore del mattino una presenza massiccia di persone, di tanti giovani, tanti bambini, tante famiglie, tanti ragazzi, tanta passione per la Triestina, per il tifo e questo ci fa un enorme piacere, soprattutto per questa sera ci sarà il clou, grande concerto del cover di Vasco ma prima un momento di ricordo per il centro della Triestina insieme al centro di La Mente, la città e tutta la curva faremo un centenario che ci ricorderemo da oggi fino al 2 febbraio che finiranno un po' le iniziative legate a questi cent'anni organizzate insieme al Comitato Unione e ci fa solamente enorme soddisfazione vedere che ancora oggi tanta gente risponde presente ad una iniziativa legata alla Triestina e alla propria tifoseria. Campo di calcio pieno tra adulti e bambini, chioschi pronti a soddisfare la fame e soprattutto la sete dei partecipanti e un clima di sportività attorno agli striscioni dei tifosi, gli stessi che guardano con ottimismo alla prossima stagione partendo da chi sarà in panchina Massimo Pavanel. Siamo contenti che c'è prima di tutto un alleatore che conosciamo benissimo ma non perché dobbiamo conoscere noi ma perché sappiamo benissimo cosa ha fatto per la Triestina, cosa ha fatto per il mondo del calcio e cosa vuole fare in futuro per questo campionato che sicuramente lui vorrà vivere da protagonista con una squadra che vorrà trasmettere la passione e l'entusiasmo di indossare anche il sacrificio una maglia così importante.